Ragazzi, che partita! Che vittoria del Milan! Sono veramente, veramente stupito! Il Milan batte il Cagliari 4-1 in casa, negli ottavi di finale di Coppa Italia e accede ai quarti di finale. Ora, un Milan che batte 4-1 il Cagliari, un Cagliari comunque in difficoltà, terz'ultimo in classifica, in campionato e tutto quanto, non dovrebbe stupire poi così tanto. Però, il Milan di quest'anno, molto alta allenante nelle prestazioni e soprattutto un Milan con una formazione composta praticamente quasi per intero da riserve e da primavera che batte 4-1 al Cagliari, mi ha veramente stupito, devo dire la verità. Perché quando ho visto la formazione iniziale, ho detto aiuto, aiuto. Veramente non ero per niente contento perché io a questa Coppa Italia, l'ho detto più volte, ci tengo. Ci tengo per vari motivi. Prima di tutto perché non la vinciamo da una vita. Sono tipo 20 anni che non vinciamo la Coppa Italia e mi piacerebbe tornare a vincerla. Che un club come il Milan dovrebbe venire di più in baccheca, ne ha pochissime. Secondo perché quest'anno credo che non vinceremo altri trofei. In Champions siamo usciti, in campionato siamo molto lontani dalla vetta. Sì, c'è l'Europa League, ma francamente molto più difficile della Coppa Italia. Io, per vincere un trofeo, punterei sulla Coppa Italia, se devo dirla tutta. Anche perché, ultimo motivo soprattutto, dalla Coppa Italia è uscita l'Inter. Sappiamo, Inter, nostra bestia nera, dovevamo incontrarle in semifinale, se loro fossero andati avanti nel loro tabellone. E sono già sicuro che ci avrebbero asfaltati, specie perché nella doppia sfida non c'era veramente possibilità di passare. E invece il fatto che sono usciti ci dà, secondo me, qualche possibilità in più. Una squadra più forte del campionato, non ci sono più. E quindi si apre qualche possibilità in più. Per tutti questi motivi io ci tengo alla Coppa Italia e avrei voluto vedere un Milan questa sera che onorava subito la competizione a partire dagli ottavi e non la snobbava. Invece quando ho visto le formazioni ufficiali messe da più, ho detto, oddio, no, cioè, qui vogliamo andare a giocare la partita proprio con la formazione non B, con la formazione C e poi dopo rischiamo di fare una brutta figura perché vai a venire Mirante in porta, terzo portiere. Quindi Median riposa, sportello ancora infortunato. In difesa, ok, Calabria, ok, ok, Teo adattato centrale, Simic della primavera, ma ci sta a far riposare Kier, Jimenez dall'altro lato, mai sentito Jimenez, ho detto, ma come, cioè, chi è? A centro campo, Lovtucic riposa, metti Reinders, ok, e Adli. Davanti, Leo riposa, metti Ciacca Traore. Romero, Romero, trequartista. Ciuquezza sulla destra per far riposare Pulisic e Jovic davanti per far riposare Kieru. Praticamente nella formazione c'erano tre titolari, tutti gli altri erano riservi per primavera. Io francamente, lo dico sinceramente, quando ho visto questa formazione ho detto, ecco, rischiamo, rischiamo pesantemente. E l'ero già lì a pensare, se perdiamo, non posso che prendermela con Pioli, no? Perché ha fatto delle scelte estremamente conservative, capisco il turnover, capisco i tanti infortunati, però secondo me si poteva usare un po' di meno con la formazione. Questo era quello che pensavo inizia partita. Poi, mea culpa, alzo le mani e dico bravo Pioli. Cioè, è stato bravo lui, ha messo questa formazione di ragazzini di primavera e riserve e ha giocato una super partita questa formazione. Quindi, non posso che dire bravo in questo caso all'allenatore, che tante volte ho criticato, perché obiettivamente la formazione che ha scelto ha giocato una partita forse migliore di tante partite giocate ai titolari. E mi ha stupito, veramente, perché dopo un inizio un po' difficile, dove il Cagliari è partito meglio nei primi minuti, tant'è che ha avuto una grossa occasione con un colpo di testa, ora non ricordo, forse di Petagna, dove Mirante ha fatto una paratona, grande parata di Mirante, su calcio d'angolo. Lì dopo 3-4 minuti già questa grande occasione del Cagliari, il Cagliari che arriva un paio di volti in aria pericolosamente, e già lì che dico, ecco, vedi, questa formazione sarà dura. Ma secondo me sono stati, semplicemente, i primi minuti di adattamento del Milan, che aveva questa formazione molto sperimentale, giocatori che, a parte in allenamento a Milanella, non hanno praticamente mai giocato insieme, quindi ci sta qualche minuto, diciamo, di adattamento in campo. Poi però il Milan è uscito fuori, e dal decimo minuto in poi il Cagliari praticamente non ha più visto il campo. Dopo la mega parata di Mirante, con l'occasione del Cagliari, veramente è stato un dominio del Milan, che prima ha una grossa occasione con Jovic su una giocata splendida di Adli, Adli ha giocato una super partita, destro-sinistro di Adli che salta un giocatore al Cagliari, palla filtrante illuminante per Jovic, che davanti a Radunovic si fa ipnotizzare, non la piazza abbastanza bene, parata di Radunovic, e già io lì, Jovic, mannaggia, e l'ho detto, la vedrete nella reaction, dopo quel gol ho sbagliato, ho detto, ecco, ma Jovic gli riescono i gol più difficili, sinistri al volo, cose così più difficili, e poi mi sbaglio a questi che sono i gol più facili, ma com'è? E detto fatto, pochi minuti dopo Jovic non mi smentisce, perché dopo aver sbagliato un gol facile, lo stanno facendo rivedere ora, ne fa uno difficilissimo, perché Ternandez dà una bella palla, diciamo, alta a scavalcare la difesa, ma Jovic fa uno stop fantastico al volo, alzando la gamba, fa uno stop meraviglioso, e la mette dietro Radunovic, ma era un gol molto più difficile di quello che ha sbagliato. Jovic che poi si ripete, segnando una doppietta pochi minuti dopo, su una giocata spettacolare di Ternandez. Ternandez che salta tutti a partire dalla difesa, c'è un'incomprensione tra, mi pare, Youngton e un altro giocatore del Cagliari, ne approfitta Ternandez che esce, salta tutti del Cagliari, anche lui con un destro sinistro fantastico a limite d'area, la serva Jovic, che da posizione un po' defilata la mette, complice anche un intervento di Radunovic, portiere del Cagliari, non eccezionale, che se la fa passare sotto la mano. Ma al di là di questo, va detto Jovic Topietta, intanto, e Ternandez, due giocate spettacolari, Ternandez che oggi ha fatto una partita spaziale, perché vanno dati meriti, anche Teo l'ho criticato molto in questo inizio di campionato, perché nella maggior parte delle partite mi ha deluso, Teo, sono sincero, mi ha deluso parecchio, però oggi ha giocato una partita spettacolare. Giocava come difensore centrale, in realtà, più che una difesa due, mi sembra una difesa tre, dove Teo saliva abbastanza a sinistra, come braccetto di sinistra, e Jimenez in realtà, più che terzino, era avanzato a centrocampo. Però Teo ha giocato una partita spettacolare, sia nelle chiusure difensive, ne ha fatte tantissime, non ha sbagliato nulla, e sia nei due assist, il primo con una pala illuminante, il secondo con una giocata, veramente un costo-costo dei suoi, che quest'anno non gli avevamo ancora visto fare, ma che ha nelle corde, ha già segnato gol così contro la Tavante, contro la Lazio, ricorderete, negli ultimi due anni, quindi insomma, sono giocate nelle sue corde. E Jovic, ripeto, doppietta, e anche a Jovic, devo chiedere scusa, perché anche lui, l'ho criticato tanto, in questo inizio di campionato, quando è arrivato, non ho minimamente condiviso il suo acquisto, però, alla fine ragazzi, parla di numeri, parla di numeri per lui, Jovic, finora giocando poco, in campionato ha fatto tre goli e un assist, e questa sera in Coppa Italia, titolare doppietta, quindi ragazzi, cinque goli e un assist, con il minutaggio scarso che ha avuto, tanta roba, tanta roba, quindi, forse dovremmo smettere tutti di criticare Jovic, perché, come riserva di Giroud, sta facendo molto bene, dopo un inizio obiettivamente difficile, anche ha avuto problemi fisici, adesso sta facendo molto bene, quindi, sono contento, avere una riserva che può far riflettare Giroud, è molto importante, secondo me. Secondo tempo, che si apre col 3-0 del Milan, che mette la partita veramente in discesa, anche qui complice, un error raccio di Radunovic, su una palla, c'è una bella giocata che Imanet, anche lui partitone, poi ne parliamo, la palla arriva in mezzo, Ciukwetze, diciamo, ci abatta il tiro, la palla arriva Traoré, che in caduta la mette un po' centrale, qui Radunovic, molto goffo, molto goffo, nello scendere giù col braccio, la palla gli passa sotto il corpo, contento per Traoré, che non ha giocato, chissà che partita, non ha fatto niente di che, però, ha segnato questo gol, un po' fortunoso, con l'errore del portiere del Cagliari, arriva bene, però, è comunque un'emozione per un ragazzino di 18 anni, professionista, quindi sono contento per lui, e a partita poi diventa praticamente gestione, tutto il secondo tempo è gestione, niente di più, il Milan gira palla, molto tranquillamente, il Cagliari non crea praticamente più niente, ricordo solo un'uscita un po' avventata di Mirante su un corner, con un tiro poi alto, del Cagliari, ma veramente niente di che, fin quando nel finale, non arriva tre minuti alla fine, il gol del Cagliari, per dire la verità, secondo me è un po' immeritato, nel senso, il Cagliari non ha fatto veramente nulla, noi avevamo difeso bene, un gol un po' sfortunato, Simic sventaglia per Ciucuese, che stava andando in profondità, mentre Simic li ha dava sul corpo, doveva venire incontro, invece li ha andati in profondità, Arrivazzi che prende palla, tira da casa sua, il tiro viene deviato, con un tacco da Luvumbo, da un tiro centrale che era lo angolo a fil di palo, Mirante secondo me non ha grosse responsabilità, perché il tiro è stato deviato dal limite dell'area, ha cambiato la traiettoria, non ha avuto il tempo Mirante di cambiare il suo intervento, è arrivato giusto a sfiorare il pallone, gol un po' fortunoso del Cagliari, ma anche qui, grande Milan che stasera ha giocato veramente alla grande squadra, perché una grande squadra, 3-0 dopo 50 minuti, è la grande squadra, partita chiusa, gestione delle forze nel secondo tempo, ci può stare che prendi un gol nel finale con una deviazione sfortunata, questo può succedere anche all'Inter, per dirne il nome di una squadra forte e matura, ma grande reazione anche qua, perché dopo il 3-1 il Milan non si è minimamente scomposto, è andato addirittura a segnare il 4-1, questo fa una grande squadra, ti domina la partita, te la tieni in controllo, anche se arriva l'episodio sfortunato, pochi minuti e rimette subito la distanza con gli avversari, 4-1, gol di Leao, che si è entrato nel secondo tempo, e sono molto contento, perché Leao se lo meritava, secondo me soprattutto, ha avuto tante critiche, e soffriva questo fatto di non segnare da parecchio tempo, questo gol sicuramente gli farà bene per la fiducia, gran bel gol tra l'altro, con una discesa delle sue, dribbling e tiro a giro nell'angolino, bel gol, secondo me meritato, e speriamo che questo gol gli dia fiducia per le prossime partite, perché avremo bisogno dei miglior Leao, che nelle ultime partite non c'è stato. Partita che si chiude in tranquillità, e voglio dire, veramente bravi a tutti, grande partita del Milan, voglio dare menzione d'onore a Ximenez, non lo conoscevo, questo giocatore che teoricamente, sulla carta ha giocato da terzino, ma in realtà era molto più avanzato, era più un esterno di centrocampo, partitona, cioè veramente questo Kimenez, tanti dribbling, non ne ha sbagliato praticamente uno, tanta personalità, un tiro da fuori che è uscito di poco, mi è piaciuto tanto, veramente tanto, è entrato nell'azione del terzo gol, lo vorrei vedere più spesso, perché non ne avevo mai sentito parlare, ho sentito parlare dei vari Camarda, Simic, Ciacca Traorema, di lui no, e ha fatto un partitona, veramente complimenti, bene a Lee, bene Reinders, bene tutta la cintura difensiva, anche Calabria molto bene, bene Jovic, bene come ho detto Teo, forse gli unici un po' sottotono, Romero, decisamente il peggiore in campo, Ciacca Traorema aveva fatto male fino al gol, però col gol diciamo che si è salvato, Ciuqueze, da Ciuqueze mi aspetto molto di più, ecco anche lui è un po' confusionario, usa solo il sinistro, certe volte è un po' frustrante, anche quando dovrebbe usare il destro, non lo usa neanche per scendere dal letto, probabilmente, Ciuqueze mi aspetto di più, insomma Ciuqueze e Romero, forse le uniche notte stonate di una partita veramente giocata alla grande dal Milan, soprattutto dai Primavera, e non me lo aspettavo. Quindi andiamo ai quarti di finale, attendiamo la vincente tra Atalanta e Sassuolo, io spero Sassuolo perché sarebbe più facile, abbiamo visto anche il campionato che è Sassuolo in un momentaccio, ma credo proprio che sarà l'Atalanta che, credo, batterà il Sassuolo, ma lo vedremo insomma, lo vedremo domani, e vedremo chi sarà il nostro avversario ai quarti. Fatemi sapere nei commenti, cosa ne pensate di questa partita, mettete un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e noi ci vediamo domani per la Live Reaction. Ciao ragazzi!